Gentili telespettatori, buona giornata. Il Campidoglio, il comune di Roma, capitale d'Italia, dà 250.000 euro che arrivano dalle tasse non solo dei romani, tutti gli italiani, 250.000 euro, li dà al cinema America e voi direte che cos'è? E' un cinema occupato abusivamente, il comune di Roma regala 250.000 euro agli abusivi. Qualcuno dirà professore qui siamo alle solite, la sinistra, al partito democratico che fiancheggia l'illegalità, che sostiene l'illegalità. Esatto, come diceva Zampetti, esatto, no? Ve lo ricordate Zampetti, quello dei salami Zampetti nei ragazzi della terza C? Esatto, diceva Zampetti, proprio soldi dei cittadini pagati con le tasse, per chi paga le tasse, no? Sapete che c'è chi le paga e c'è chi gli si dice, no? Pizzo di Stato, vabbè, facciamo perdere, andiamo avanti. Quelli che pagano le tasse, che non è pizzo di Stato, quelli che pagano le tasse, i loro soldi, una parte dei loro soldi vanno agli abusivi. Eh sì, il presidente della fondazione Piccolo America, Valerio Carocci, dice bisogna sbattere i pugni per ottenere qualcosa. Ah, commentando che il comune ha stanziato 250.000 euro di finanziamento per le aree estive in tre aree aperte al pubblico. Piazza San Cosimato, a Trastevere, il parco della Cervelletta Torsapienza e Monte Ciocci, a Valle Aurelia. L'assegno di 250.000 euro, staccato dalla Commissione Capitolina Cultura e dall'assessore Miguel Mogol, segue un incontro dello stesso Carocci con il capo gabinetto, quello che è il capo del gabinetto, del sindaco Gualtieri. Voi direte, ma c'è un capo del gabinetto? Sì, c'è un capo del gabinetto. Il rappresentante dell'associazione, che dal 2012 occupa il Cinema America a Trastevere, ha smentito le voci di una occupazione degli uffici di Palazzo Senatorio, così come le telefonate a Franceschini e alla Schlein, ma ha confirmato l'incontro e non solo. Dice così, Carocci, si è ottenuto il risultato sperato, la possibilità di organizzare la manifestazione, ma questo ha avuto un grande costo umano per noi, perché non è più possibile mettere le realtà culturali e gli operatori culturali in queste condizioni. Non è giusto che per organizzare un evento gratuito come Ente No Profit si debbano battere i pugni, ma è l'unico metodo che ci hanno insegnato in questi undici anni. E sì, è la legge del più forte, tu sei a capo di abusivi, sbatti i pugni e il comune sgancia gli sordi. Sono soldi di chi paga le tasse e senza bandi. Ecco, l'opposizione o meglio, eh sì, a Roma il centrodestra è opposizione, perché quelli di destra a Roma, quando hanno eletto il sindaco di Roma, non sono andati a votare. Quelli di centrodestra, non sono andati a votare, ed è stato eletto il sindaco chitarrista del Partito Democratico, Gualtieri, quello che con la chitarra vi canta anche, non ho mia bella madunina, ma vi canta bella ciao, 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 ciao. Quindi, signori e signore di Roma, adesso non ci si può lamentare, quel giorno là, non andando a votare, è arrivato Gualtieri, che con i vostri soldi ne fa quello che più gli pare. Non credo che un sindaco di destra o centrodestra avrebbe dato 250.000 euro ad abusivi, non credo proprio, poi magari mi sbaglio, ma non credo proprio. E così, oggi il centrodestra, grazie a quelli che non sono andati a votare, è opposizione, perché la maggioranza è di centro-sinistra. Ecco, insomma, è intervenuta anche la Raggi, vi ricordate, il vento del cambiamento a Roma, un cambiamento, che mi vengono i bribbiti. Bene. Comunque, poi c'è tutta la diatriba, hanno pure litigato, ne volevano di più di soldi, ma no, erano 300, ma ce ne diamo di voi 150. Bene, parliamo di soldi pubblici che non passano da bandi, perché loro non partecipano ai bandi. Loro aspettano che i soldi arrivano. Anche il consigliere di Fratelli d'Italia ha annunciato di richiedere una commissione trasparenza sulla vicenda e la Lega, anche la Lega. Invece il vicepresidente della Camera, Rampelli, ad annunciare un'interrogazione al ministro dell'Interno e convocherà il sindaco Gualtieri in audizione. Io sono dell'idea che tutto quello che c'è occupato in Italia deve essere sgomberato immediatamente, che siano occupazioni di sinistra, di destra, di centro. Bisogna procedere, partendo da Trento, scendere e sgomberare tutti gli stabili occupati. Murare le porte come fanno nelle case abbandonate che trovate le porte e le finestre murate. Murate tutto. Visto che prima che si prenda uno stabile e lo si sistemi, murate tutto. Magari non è bello da vedere. Murate tutti gli edifici abusivi e ogni giorno passate a controllare. Se vedete che hanno aperto una porta e una finestra, arriva i carabinieri, polizia, esercito, fuori tutti e si rimura da capo. Sono cattivo? Non mi sembra di essere così cattivo. Ci sono famiglie. Gli trovate un'altra sistemazione. Trovate un'altra sistemazione. Che dite? Vuol dire essere cattivi o essere giusti? Perché se tu tolleri l'illegalità si diventa poi come il PD. poverini, poverini di qui e poverini di là e poverini quelli che fanno i rave e poverini quelli che sbarcano illegalmente e poverini quelli che occupano e poverini gli ecovandali. Tutti poverini sono. E il paese va in? In? Dove va il paese? Se voi non fate rispettare le leggi il paese va in? Chiaro? Più di quello che lo è già oggi. Grazie a tutti e arrivederci a presto.